Le ragazze piccole che volevano giocare a calcio erano discriminate, anche per loro era difficile. Aveva col suo sogno immenso di giocare a pallone, di essere veramente una calciatrice. Lucy Alves ha significato una grande partenza del movimento Calcistic Família. E comunque non è che si tirasse indietro, è sempre bella tosta, la signora Lucy Feitosa. Era di un'intelligenza calcistica eccezionale. Era una che scherzava sempre, ne combinava in tutti i colori. Sono Lucy Alves e sono la pionera del calcio brasiliano femminile. Grazie a tutti.